Ciao a tutti e bentornati, ciao Giorgio, oggi iniziamo la settimana parlando di razze e oggi parliamo di Keirn Terrier, un cane reso famoso da un film famoso. Il mago di Oz, esattamente, lui è Toto, in realtà lei è Coco Chanel, esatto, dobbiamo ringraziare la signora Corinne Mariani per questi due splendidi soggetti. Qui, come dicevi, abbiamo una femmina di 5 anni che già ha al suo attivo svariate esposizioni, quindi è una campionessa italiana, svedese ed europea in Barcellona del 2004. Invece tu in braccio hai un giovane maschietto, esatto, di importazione svedese, si chiama Return of the King ed è praticamente una, speriamo, una promessa. In Svezia, come abbiamo detto, hanno parecchie razze, sono ottimi allevatori, quindi la popolarità di questa razza, che in Italia forse non è proprio enorme, infatti negli anni 60 probabilmente ha avuto un inizio ancora tutt'oggi, riconosce pochissimi scritti nel libro genealogico. I colori del Kern sono principalmente questi due che vediamo, quindi si tratta fondamentalmente di un cane brindle, brindle in inglese è un termine che sta a indicare tigrato e la tigratura può riconoscere più delle sfumature di nero, ardesia, grigio o di biondo grano come questo. Una particolarità di questo mantello, di questo colore, è fondamentalmente quello che spesso e volentieri i cuccioli cambiano colore, quindi a volte capita che qualcuno prenda un cucciolo biondo. E si ritrova invece un adulto, sale e pepe. Purtroppo quindi è molto difficile per gli allevatori, quindi non lo domandate mai di che colore sarà o che colore è, perché questo colore purtroppo nel tempo può cambiare. Quindi abbiamo detto, stiamo qui parlando oggi di terrier, i terrier fanno parte del terzo gruppo, quindi abbiamo detto nelle esposizioni, sono cani che hanno parecchie razze, vengono distinti in terrier piccoli. Una volta si diceva a gamba corta e a gamba lunga, adesso questa è una dicitura un po' abbandonata, si parla solo di terrier piccoli, come in questo caso, e di terrier più grandi che poi magari andremo a vedere. Senti, Giorgio, una domanda, loro hanno il pelo ruvido? Sì. Ed esistono solo con il pelo ruvido? Diciamo, il terrier, la particolarità di questi terrier è appunto il pelo ruvido. Quello che volevamo dire è che comunque il terrier è un cane, abbiamo già visto altri, per esempio anche Pinolo, è un Jack Russell terrier. Però Pinolo per esempio, c'è la versione di Pinolo ruvida e liscia. C'è il Parsons Jack Russell, esatto, che diciamo con una gamba un po' più lunga e un pelo ruvido. Il mio è decisamente corto. E tu è cortissimo, gamba corta. Allora, diciamo, il Kern è un cane antichissimo, le sue origini sono naturalmente un cane inglese, sono inglese scozzese, diciamo. Gli scozi hanno svariati terrier, ma lui diciamo che viene considerato il più antico di tutti, in assoluto. Però purtroppo, pur essendo un cane antichissimo, solamente nei primi anni del Novecento, quindi intorno al Novecento e Dieci, lo hanno riconosciuto. Ma perché c'era una lotta con i Louis Westy, perché un po' si assomigliano. Sì, infatti diciamo una cosa, nel Kern abbiamo capito che tutti i colori sono accettati. Fondamentalmente gli unici due che vengono esclusi sono il bianco, esatto, per non confonderlo con quello che è il West Island, e il nero per non confonderlo con quello che è il colore dello Scottish Terrier. Quindi sono fondamentalmente... Ed era un cane che utilizzavano nelle miniere? Sì, diciamo che fondamentalmente... Però considerato un po' il cane dei poveri. Il cane dei minatori, sì, perché era, innanzitutto, oggi è un grandissimo cane da compagnia, spiegheremo poi tutte quante le caratteristiche della razza. Però fondamentalmente, diciamo, nell'antichità veniva usato come un po' un cane da piccola selvaggina, per cui il Kern, in galenico, il nome vuol dire piccolo cumulo di pietre, quindi sono cani più... Datana. Datana. Cani che vanno, che andavano una volta dietro la piccola selvaggina, quindi l'onte, tassi, eventualmente... Sì, topi venivano portati anche loro nelle miniere, dai minatori, proprio per, diciamo, catturare questa quantità industriale di topi che all'epoca girava. Oggi come oggi, naturalmente, hanno perso questa loro caratteristica, quindi, diciamo, fondamentalmente non c'è più questa loro attitudine, anche per quello che sono i campionati italiani, di bellezza internazionale, non viene più richiesta la prova attitudinale, che sarebbe, appunto, quella proprio che si fa per certe razze nei confronti, appunto, della loro attitudine a essere un cane cacciatore. Oggi come oggi sono considerati gran cani da compagnia. Noi, in queste nostre puntate, in questi nostri incontri, naturalmente, vorremmo così, anche se in maniera molto breve, un po' succinta, cercare di farvi conoscere delle razze di cani che potrebbero essere, diciamo, accettate molto volentieri, non so, dai componenti della famiglia. Il kern ha questa grossa caratteristica di essere un cane, innanzitutto, di piccola taglia. L'altezza algarrese, che quindi abbiamo sempre detto che il garrese è il punto di passaggio. È, diciamo, la spalla del cane. La spalla del cane, esatto. Questo è il garrese. Il garrese, diciamo, un kern è intorno ai 31 centimetri. Naturalmente, questa è un po' la taglia ideale. Spesso, naturalmente, possono essere leggermente più grandi. L'altezza algarrese è praticamente quasi identica per i maschi e per le femmine, quindi non c'è un grosso dimorfismo sessuale. Con la denominazione, la dicitura, dimorfismo sessuale, si intendono appunto quelle caratteristiche che sono più proprie di un maschio o di una femmina e che quindi possono dare, a volte, nella stessa razza, diciamo, più... Delle diversità. Esatto. Però, diciamo, in questa razza non c'è. Quindi, diciamo, il maschio e la femmina più o meno si equivalgono. Diciamo che questo è uno di quei cani molto consigliati per i bambini, perché sono socievoli, sono buoni, sono pazienti, sono resistenti. Molto rustici. Perché magari uno Yorkshire rispia il bambino di fargli un danno. Esatto, l'abbiamo sempre detto, spesso e volentieri, con i bambini si cerca sempre di dare cani molto piccoli. Questa cosa, diciamo, è un po' un'arma a doppio taglio, perché il cano è molto piccolo, comunque, sì... Possono essere fragili. Esatto, è sicuramente più maneggevole, però... Qui abbiamo comunque un cane, abbiamo detto, di 31 cm algarrese e di un peso di 7-8 kg, forse può arrivare a 9 kg, quindi vi fa facilmente capire la facilità con la quale può essere, diciamo, più o meno trasportato in macchina, eventualmente anche in aereo. La rusticità, praticamente, lo fa un cane perfetto per chi vuole vivere anche in campagna e in città. Sì, anche perché credo che il pelo non abbia bisogno di particolari tolettature. Il pelo, diciamo, a differenza, bravissima, a differenza di altri terrier, che poi andremo anche a vedere, è un pelo che viene, diciamo, molto, molto poco toccato. Adesso mettiamo Coco Chanel, mettete in piedi così puoi vedere. Questo, diciamo, sono praticamente dei cani che Madre Natura ha fatto così, vengono leggermente, diciamo, più o meno toilettati, quindi vengono un po', come si dice, sono queste due denominazioni, c'è lo stripping e il trimming. Lo stripping è praticamente una manipolazione che si fa del pelo, praticamente tirandolo quasi completamente giù e rendendolo, praticamente, poi più robusto, perché ricrescendo, naturalmente cresce più robusto, dà una grossa, diciamo, pigmentazione, per cui poi vedremo la differenza che ci può essere nel momento in cui si decide, avendo magari un terrier a cui, diciamo, il pelo deve essere sottoposto con stripping e trimming, se invece questo lavoro venisse fatto con, diciamo, altre, diciamo, macchine, tipo, non so, una macchina più facile, forse una macchinetta, diciamo, toilettatrice, perderebbe sia la consistenza del pelo, quindi la sua rusticità e perderebbe fondamentalmente anche la pigmentazione del mantello. Quindi, fondamentalmente, sono cani che, ringraziando il cielo, hanno bisogno di molta, chiamiamola, meno attenzione o meno cura per quello che potrebbe essere tutta la loro, diciamo, più o meno manutenzione. Come tutti, i cani a pelo duro andrebbero lavati molto poco, molto poco vuol dire che comunque vanno sempre tenuti molto spazzolati e questo eviterà sicuramente problemi... Perché il, ricordiamolo, perché il pelo ruvido va lavato di meno? Perché si sporca praticamente, perché il pelo ruvido, nel momento in cui viene lavato, specialmente se non con degli sciampi adeguati, perde la sua, diciamo, più o meno... Durezza? Esatto, sì. E poi, fondamentalmente, il cane con il pelo ruvido, questo chi lo ha avuto lo sa perfettamente, io dico, faccio una battuta, ma sono quasi cani autopulenti, perché un cane di questo genere può girare in campagna, infangarsi, rotolarsi da qualsiasi... E non trattiene lo sporco? Non trattiene lo sporco, cioè basta una banalissima spazzolata e torna lucido... Però sento che nei cuccioli è un po' più morbido. Beh, bravissima, tu hai un cucciolo di cinque mesi, per cui il pelo più lanuginoso è tipico proprio del pelo da bebè. Se tu tocchi lei, per esempio, mi faccio ai nostri telespettatori, non lo possono fare, però è piacevole, perché è un pelo ruvido, ma allo stesso tempo mantiene una sua morbidezza. Poi, diciamo una cosa, sono anche cani molto longevi, per cui fondamentalmente sono cani che ci possono tenere compagnia per tantissimi anni, si parla di 15-16 anni. Il carattere, abbiamo detto, è ottimo per stare con bambini, quindi anche chi volesse poi direttarsi con gare di agility, sono cani che hanno una grandissima agilità, per cui anche perfetti... Ma ma anche, scusa, se ti interrompo un'altra peculiarità, imparano molto rapidamente le cose, quindi quando gli insegni le cose so che bisogna cambiare spesso gli esercizi, perché sennò tendono ad annoiarsi, perché apprendono rapidamente... Sai cosa succede, Ferenza, che ringraziando il cielo, il terrier è un cane, chi lo ha avuto o chi lo vorrà conoscere, qui speriamo appunto di darvi delle indicazioni, e per potervi così far conoscere eventualmente chi si dovesse appassionare, ci può telefonare o scrivere, ed eventualmente daremo poi altre indicazioni per gli allevamenti. Però sono cani estremamente simpatici e sono, diciamo, intelligentissimi, chi lo ha avuto, forse se uno volesse trovargli, chiamiamola un po' una pecca, tanto per dire qualcosa, sono cani anche leggermente ipercinetici, quindi sono cani che hanno dalla loro, diciamo, a volte un'iperattività, quindi si annoia, hanno bisogno sempre di giocare. Le tare, diciamo, più o meno genetiche, le tare di questo cane si possono più o meno riassumere, a volte in problemi di alcune oculopatie, quindi non so, l'ussazione del cristallino, atrofia della retina, e a volte possono avere dei problemi congeniti alla patella, quella rotula, altre volte si parla di necosi della testa del femore, a volte ci sono alcuni casi di problemi, diciamo, più o meno epatici, un problema che si chiama shunt portosistemico, che è un problema, anche quello che potrebbe essere, diciamo, ereditario e quindi genetico. Se no, per altre caratteristiche, come dicevamo, sono cani estremamente solidi, simpatici, divertenti, di piccola taglia, come vedete, affettuosissimi, stanno buonissimi su questo tavolo, oramai sono fermi da dieci minuti, e niente, speriamo di avervi dato alcune indicazioni che possano, così, farvi conoscere questa razza, qualsiasi altro tipo di richiesta, Fiorenza, tu sarai pronta? Siccome ogni tanto vado nel nostro forum, quindi ascolto le domande delle persone che ci seguono da casa, appunto, fondamentale, la cosa che leggevo di questa razza, è che sono dei cani molto adatti per i bambini, quindi conosco tanta gente, e leggo sempre di gente, appunto, che vuole comprare il cane al proprio figlio, e avere una certezza, perché, ahimè, non è una certezza che puoi avere magari andando al canile a prendere un bastardino, un trovatello, e quindi ecco, una razza tranquilla. Allora, grazie Giorgio, io volevo ricordare ai nostri telespettatori, il nostro sito è www.alice.tv, esiste anche un nostro forum, che è pieno di gente, seguito sempre, anche io ogni tanto mi collego per, così, divertimento e rispondervi a delle domande, ma soprattutto vi voglio ricordare che il sabato ci sarà l'intera puntata con Giorgio, che risponderà a tutte le vostre lettere, e quindi mi raccomando seguiteci, e a questo punto noi in compagnia di queste bellezze super affettuose vi lasciamo. Ciao a tutti! Ciao!